La cosa che mi è piaciuta di più di questo corso è stata sicuramente la parte pratica. Nella parte pratica che mi è piaciuta di più è stato il sopralluogo nell'atelier di abiti da sposa, perché ovviamente sono una donna e quindi amo gli abiti da sposa. Non avevo mai visto un atelier, però in questo modo ho scoperto anche che lavoro c'è dietro alla scelta di un abito da sposa, quali sono i criteri da seguire nella scelta di un abito da sposa, come consigliare una futura sposa nella scelta del proprio abito. Abbiamo visitato un atelier, abbiamo visitato delle location, abbiamo conosciuto dei fornitori e abbiamo imparato anche a trattare il rapporto con loro e a riconoscere un fornitore che vale. E penso che questo sia uno degli aspetti che di più premia per la nostra professione, perché noi dobbiamo dare consigli a voi spose, per cui dobbiamo essere in grado di riconoscere quello che vale.